A Castelvecchio in provincia di Modena funziona con ottimo rendimento un nuovo motore aerodinamico che produce energia elettrica ideato e costruito da un geniale tecnico italiano. Questo apparecchio, un cui gemello è già in pugna, riceve il vento da qualsiasi parte, senza timone di direzione. È autoregolato, resiste ai più forti uragani e si mette in moto al più piccolo soffio d'aria costituendo una vera piccola centrale elettrica per la casa che lo inalbera sul tetto. Il riscaldamento globale è alle porte. Per cercare di rallentare questo processo, l'umanità si affida sempre di più alle energie rinnovabili. La turbina Icewind CV100, per uso residenziale, promette qualcosa di rivoluzionario. La turbina non è alta, come le altre turbine eoliche. È alta solo un metro e mezzo. Immaginiamo quindi che sia perfetta per l'uso domestico. Si adatta facilmente al tetto della vostra casa o nel vostro giardino. Niente più spiacevoli sorprese in merito alle fatture. Niente più interruzioni di corrente. Questa turbina è una soluzione economica ed ecologica. Produrrà energia finché soffia il vento. Inoltre, i costi di manutenzione saranno drasticamente ridotti. In termini di elettricità, può generare fino a 3000 Watt e ha una potenza nominale di 500 Watt. Le piccole pale interne catturano brezze fino a 4,5 miglia orarie, mentre quelle all'aperto riescono a resistere a venti che possono raggiungere le 130 miglia orarie. Lavorando in coppia, affrontano venti ad alta velocità. Questo set resisterà anche agli uragani di livello 4. Le turbine Icewind sono già disponibili sul mercato francese. Anche se non possiamo dire che da domani prenderanno d'assalto il mondo, faranno sicuramente la differenza. Che si tratti di paesi in via di sviluppo o città ad alta densità, la turbina può fare davvero la differenza. D'altra parte, siamo sicuri che le turbine eoliche convenzionali continueranno a farsi strada prima che un giorno le turbine Icewind possano prendere il sopravvento. Quindi che voi abbiate un business o vogliate prenderle per la vostra residenza rivoluzionerà la vostra vita quotidiana. Grazie a loro, le persone potranno godere di energia e indipendenza a duratura.